Il 18 aprile del 1955 a Princeton negli Stati Uniti d'America muore Albert Einstein. È già lo scienziato più famoso del mondo, ma è anziano, ha perduto la sua seconda moglie, sua cugina Elsa, e viveva da tempo ritirato, difendendosi dalla fama che lo aveva travolto e cercando solo la compagnia di qualche amico scelto e la solitudine. Nella solitudine aveva scritto poco prima che è così penosa in gioventù ma è deliziosa nell'età matura e nei suoi anni maturi era rimasto poco in contatto con le ricerche di fisica fondamentale che stavano fiorendo, erano gli anni 50, nonostante il fatto che tutta questa nuova fisica fondamentale fosse relativistica, cioè basata sulla teoria della relatività, la sua teoria della relatività. È morto a 76 anni il più grande fisico moderno. Era comparso in pubblico forse per l'ultima volta, quando gli avevano portato la nomina di professore onorario all'Università di Haifa. Con la teoria della relatività Einstein non solo ha rinnovato la fisica ma tutta la concezione dell'universo e ha aperta l'era atomica. La sua grandezza rimarrà pari a quella di Copernico e di Galileo. Mi è capitato di incontrare scienziati che da giovani erano stati studenti a Princeton quando Einstein c'era ancora, che mi hanno raccontato che allora non si erano neppure interessati a lui. Lo guardavano come un vecchio che aveva fatto il suo tempo. Oggi, più di mezzo secolo più tardi, molte delle ricerche di quegli studenti che lo consideravano vecchio ci appaiono esse vecchie, sbiadite dal tempo. Mentre la curiosità di Einstein, i suoi pensieri, le domande che si poneva, mantengono oggi tutta la loro forza dirompente e guidano ancora le ricerche di oggi. E sembrano ancora oggi i pensieri di un ragazzino pieno di fantasia. Einstein fino alla fine ha continuato a fare quello che ha fatto tutta la vita, porre domande e cercare nuovi sentieri per pensare il mondo. E ha continuato a farlo con lo stile che ha sempre avuto, fuori dal branco, solitario, irriverente e direi scansonato, sorgnone, sorridente, guidato da una intelligenza luminosa, ma soprattutto da una capacità visionaria, quasi magica. Perché il fascino del pensiero di Einstein, il fascino che esercita tuttora, è proprio questo, la sua limpida forza visionaria che ha cambiato per sempre la nostra immagine del mondo. Lo spazio, il tempo che si incurva, le particelle di luce, il tempo che si dilata, tutta la fisica di Einstein è una visione. Einstein è un gigante perché ha incarnato questa cifra del pensiero scientifico, questa caratteristica profonda del pensiero scientifico, la capacità di vedere cose nuove, di guardare il mondo con occhi nuovi, di immaginare l'inimmaginabile, di sognare l'insonnabile e vedere quello che magari stava davanti agli occhi di tutti, ma nessuno aveva ancora saputo vedere. E per arrivare a questo, essere pronti a ribellarsi ai pensieri del presente, a cambiare tutto, a non avere rispetto per niente, a non credere a niente come definitivo e non avere paura di dire il contrario di quello che abbiamo studiato a scuola, di quello che insegnano i padri. Einstein ha vissuto questa ribellione profonda, sorridendo, scherzando, non prendendosi mai del tutto su serio, anzi spesso prendendosi in giro, ma senza mai perdere di vista un faro di riferimento chiaro. La ricerca di come stanno veramente le cose, anche a costo di abbandonare le certezze e di cambiare idea dieci volte. Einstein ha realizzato nella forma più scintillante e anche più simpatica questa anima sovversiva, rivoluzionaria, che nutre in profondità il migliore pensiero scientifico. Ma non è solo la scienza di Albert Einstein a catturarci, è anche la sua vita. Einstein ci affascina perché questa ribellione, questa indipendenza che animano la sua scienza, si riflettono uguali nella sua vita. Anticonvenzionale, indipendente, senza nessuna fiducia nelle religioni rivelate, in conflitto fin da ragazzo con il sistema scolastico, con l'esercito, con ogni forma di autorità e di regola fissa. Einstein è il tedesco che ha rinunciato alla nazionalità tedesca, il cittadino del mondo. L'uomo in costante conflitto con ogni idea di fedeltà alla patria, di tutte le pretese della tradizione, del passato, contro tutte le chiese, contro i branchi, i fanatismi, le ideologie, contro tutti gli assolutismi e contro tutti i fascismi. Come punto fisso sempre un rispetto profondo per gli altri e per l'umanità. E lui il primo si racconta che quando è sbarcato negli Stati Uniti alla domanda ufficiale che si faceva allora e si fa tuttora di dichiarare a quale razza si appartenga, ha risposto la razza umana. Einstein non solo ci ha aperto sorridendo gli occhi su un mondo fisico profondamente nuovo, ma ha anche dato un contributo di valore alla coscienza dell'uomo moderno. Ladies and gentlemen, the Nobel anniversary celebration takes on a special significance this year, when after a deadly struggle of many years we are at peace again, or what we are supposed to consider as peace. And it bears a still more significant significance for the physicists who, in one way or another, were connected with the construction or the use of the atomic bomb. For these physicists find themselves in a position not unlike to that of Alfred Nobel himself. Alfred Nobel invented the most powerful explosive ever known up to his time, a means of destruction by excellence. In order to atone for this, in order to relieve his human conscience, he instituted his awards for the promotion of peace and for achievement of peace. Today, the physicists who participated in forging the most formidable and dangerous weapon of all time are harassed by an equal feeling of responsibility, not to say guilt. We cannot desist from warning, and warning again, we cannot and should not slacken in our efforts to make the nations of the world, and especially their governments, aware of the unspeakable disaster. They are certain to provoke, unless they change their attitude towards each other and towards the task of shaping the future. La natura aveva affascinato Einstein fin da bambino, fin da quando lui racconta il padre gli aveva mostrato l'ago di una bussola che misteriosamente si orientava da solo sempre verso il nord. Einstein piccolino non era rimasto stregato e il resto della vita lo ha dedicato a cercare di togliere qualche velo a questa natura misteriosa, cercare di comprenderla un poco meglio. Ed è natura che lui ha corteggiata come pochi altri, è stata generosa con lui come forse con nessun altro. Quasi tutte le sue visioni strane, straordinarie, comprese le conseguenze più spettacolari e difficilmente credibili delle sue teorie, sono state poi verificate nei fatti. E quanto è spettacolare ciò che hanno predetto le sue teorie lascia senza fiato anche oggi. La luce è fatta di particelle di luce, il tempo non passa uguale per tutti, due gemelli con la stessa età si possono ritrovare a età differenti, gli oggetti si contraggono quando si muovono, le stelle muoiono qualche volta sprofondando in buchi di spazio, buchi dello spazio-tempo, i buchi neri, l'universo non è statico ma in espansione, è nato da un gigantesco Big Bang e così via. A bassissima temperatura la materia può condensare acquistando proprietà completamente diverse dall'ordinario, la materia non si conserva contrariamente a quello che si è pensato per secoli, nulla si fa, nulla si distugge, ma anzi la materia si può annichilare e trasformarsi in pura energia e viceversa che anche l'energia si conserva, l'energia si può materializzare diventando della massa, tutti questi sembrano dei deliri di un pazzo. Eppure per oltre un secolo la natura ostinatamente non ha fatto che continuare a dare ragione a lui su ciascuno di essi uno alla volta e tutti questi deliri sono quelli di un uomo ricordiamoci nato nell'ottocento e sono risultati più vicini alla realtà che non la vecchia immagine condivisa e pacifica del mondo che li precedeva. E l'ultima volta è successo due mesi fa con i neutrini più veloci della luce che hanno fatto tanto scalpore. In autunno sulle pagine di tutti i giornali c'era la notizia che i neutrini andavano più veloci della luce contraddicendo una delle più famose previsioni di Einstein che nulla potesse correre più veloce della luce. E invece no. Poi si è capito poco fa che si era trattato di un errore di misura. Ancora una volta la natura dava ragione a lui e lui avrebbe probabilmente sorriso con la sua aria sornione. Ma come ha fatto? Come faceva a vedere più lontano degli altri? Lui lo ha spiegato con una frase che è rimasta famosa, falsamente modesta, che dice, così diceva Einstein, no no nessuna dote particolare eccetto una grande curiosità. curiosità vuol dire dare più importanza, cercare di capire come veramente stanno le cose che non a difendere le proprie idee e forse questo era il suo segreto più semplice. Tecnologico unemployment, internazionali quarrelli per i raw materiali dell'industria, e finalmente le vetture di meccanizzate guerra. Come credete che le scopri di scienza potrebbero essere tornati da uno di un'ottura di un'attività di lui? La scienza ha provided la possibilità di liberare per gli uomini di difficile di lavoro ma la scienza in itself non è liberatoria. Si crea means, non gli obiettivi. L'unico deve usare i obiettivi per i obiettivi obiettivi. Quando i idei dell'umanità sono guerra e conquistare, queste strumenti diventano così dangerous che un'erase in la mano di un bambino di tre. Deve non condamnere l'inventività e la patente e la conquista delle forze della natura perché stanno utilizzando sicuramente e destructivamente. Il fate dell'umanità è completamente dipendente sul suo sviluppo moral. Ma insomma cosa ha fatto Einstein? Purtroppo non ha fatto una cosa importante per la scienza, ne ha fatte decine e ciascuna sarebbe sufficiente per fare di lui uno dei grandi scienziati del secolo. Quindi non posso raccontarle tutte ma vi faccio un esempio e vi racconto uno dei suoi risultati. Per esempio Einstein ha provato l'ipotesi atomica. Ha dimostrato che la materia è effettivamente veramente fatta di atomi e molecole. E l'ho fatto da ragazzo, a partire dalla sua tesi di dottorato, con un calcolo molto semplice basato su un'osservazione fisica ancora più semplice. Il problema era aperto da secoli, anzi da millenni. Era un problema gigantesco. Il problema era questo. Com'è fatta la materia? È fatta di unità elementari, pezzettini, pallini, mattoncini, atomi e molecole oppure un tutto continuo? Io posso prendere una goccia d'acqua e dividerla in due. Poi posso prendere ciascuna delle due metà e dividerla ancora in due. Ma posso continuare all'infinito oppure arrivo ad un'unità minima di acqua dopodiché non è più acqua? Questo era il problema. L'idea che ci fossero dei mattoncini elementari di materia, degli atomi, delle molecole è un'idea molto antica che era stata sostenuta nel mondo antico da un grandissimo scienziato e filosofo, Democrito. Per Democrito tutto nella natura era formato di atomi. La natura non è altro che uno spazio vuoto in cui danzano innumerevoli atomi che viaggiano nello spazio, si attaccano l'uno all'altro, si aggregano e collidono. E questa visione grandiosa possente della natura che è quella cantata da Lucrezio è l'ipotesi atomica. A queste ipotesi si sono opposti in tantissimi, da tempo di Lucrezio fino alla generazione di Einstein passando per Aristotele e per Cartesio tutti che hanno fornito argomenti di tipo razionale o di tipo di osservazione per i quali la materia invece deve essere una cosa continua senza granelli che riempie tutto ed è divisibile all'infinito. In epoca moderna l'ipotesi atomica aveva ripreso piede ma alla fine dell'Ottocento era ancora soltanto un'ipotesi interessante ma senza prove dirette e molti scienziati e molti filosofi della scienza non ci credevano assolutamente. non sappiamo neppure dicevano quanto dovrebbero essere grandi queste ipotetiche molecole quante molecole di acqua ci sono in una goccia di un millimetro niente assicurava che esistessero atomi e molecole. E qui arriva Einstein Albert Einstein ventenne, giovanissimo senza un posto universitario e viene a sapere che un granello di polvere questa è l'osservazione fisica un granello di polvere immerso nell'acqua e osservato con un semplice microscopio si muove in maniera buffa si muove in maniera curiosa fa una danza a zig zag che appare del tutto casuale ma che pian piano fa driftare fa spostare lentamente il granello che va alla deriva da dove sa sempre danzando e zig zagando e qui Einstein ha l'idea l'idea è questa immaginate un campo giochi per bambini con un prato e tantissimi bambini che corrono tutto giorno immaginate che nel prato da qualche parte ci sia appoggiato un grosso pallone di plastica abbastanza pesante appoggiato sul prato i bambini corrono e gli sbattono contro continuamente oppure gli danno un calcio e ogni volta che un bambino sbatte contro il pallone lo spinge e lo sposta di poco il pallone si sposta un po' qua e un po' là bene, Einstein congettura che il movimento a zig zag che vediamo fare al granello di polvere nell'acqua è come il movimento a zig zag del pallone scalciato dai bambini dove i bambini microscopici che spingono qua e là il granello di polvere sono appunto le molecole le singole molecole di acqua ora, pensa Einstein se non esistessero le molecole e l'acqua fosse un fluido continuo anche a piccolissima scala se non ci fosse unità di acqua la spinta che l'acqua fa da una parte e dall'altra del granello si equilibrerebbe da una parte e dall'altra e il granello non si sposterebbe il movimento per cui si muove a zig zag è l'esistenza delle molecole delle molecole individuali che lo calciano ora, in media e questo è il punto sottile in media il pallone sul prato riceve tante spinte da destra quante da sinistra quindi in media non si muove molto si muove un po' di qua e un po' di là ma questo non impedisce ovviamente che alla fine della giornata lo possiamo trovare a furia di spinte un po' di qua e un po' di là dal lato opposto del prato perché? perché in media le spinte a destra e a sinistra si equilibrano ma questo è il punto sottile solo in media tante piccole discrepanze dalla media si accumulano e il pupazzo alla fine si può essere spostato anche di parecchio in altre parole quello che fa spostare il pallone sono le discrepanze della media che in termini tecnico si chiamano le fluttuazioni il pallone va alla deriva per il campo a causa delle fluttuazioni casuali fra le spinte che riceve a destra e quelle a sinistra che si equilibrano ma non esattamente di quanto si sposta il pallone dipende da queste fluttuazioni queste fluttuazioni dipende da quanti bambini ci sono ovviamente quindi usando il calcolo delle probabilità con un calcolo neanche troppo complicato si può risalire da quanto si è spostato il pallone alla fine della giornata al numero di bambini che lo scalciavano e questo è quello che fa Einstein usando il calcolo delle probabilità calcola quanti calci deve ricevere il granello di polvere dalle molecole per muoversi nel modo in cui viene osservato e questo gli permette di dedurre il numero delle molecole di acqua a partire da quanto drifta da quanto si muove nell'acqua il granello di polvere in questo modo Einstein per la prima volta dopo 2000 anni calcola quanto sono grandi le molecole quante sono le molecole dentro un millimetro di acqua una goccia di un millimetro dopo più di 20 secoli della sua formulazione Einstein ha provato l'ipotesi atomica ha trovato un effetto diretto dell'esistenza delle molecole individuali i suoi occhi acuti hanno visto immediatamente nel movimento a zig zag del granello di polvere l'effetto dei calci delle singole molecole e poi con la sua intelligenza brillante gli ha permesso immediatamente di trovare uno strumento matematico originale calcolo delle fluttuazioni calcolo probabilistico delle fluttuazioni con cui ha dedotto le dimensioni delle molecole lo ha fatto quando era un ventenne con la sua tesi di dottorato e questo è uno dei lavori meno conosciuti di Albert Einstein dopo aver dimostrato che la materia è fatta di granelli cosa che in fondo già molti si aspettavano Einstein continua mostrando in un modo simile che anche la luce è fatta di granelli i famosi quanti di luce, i fotoni e questo invece non se lo aspettava nessuno e all'inizio nessuno lo prenderà sul serio anche perché a quel tempo era un impiegato dell'ufficio brevetti di Berna perché non era riuscito come tanti giovani italiani che si occupano di scienza oggi ad avere un posto all'università o all'istituto di ricerca salvo poi dargli il premio Nobel per questo quando la natura come al solito darà ragione a lui ma la sua conquista più grande sarà pochi anni dopo la completa riformulazione del modo in cui dobbiamo pensare lo spazio e il tempo lo spazio e il tempo non sono quelli che prima pensavamo tutti e che ancora tutti studiamo a scuola e Einstein ci ha insegnato come ripensarli con una teoria la relatività generale che è una teoria di bellezza prodigiosa chiamata spesso la più bella delle teorie fisiche che ci spiega come la gravità e il fatto che le cose caschino non sia altro che l'effetto dello spazio-tempo che si incurva infine anche se lo si racconta di rado sarà lui il primo a capire che anche la meccanica di Newton le equazioni di Newton che dicono come si spostano le cose sono completamente da rifare apprendo la via anche all'altra grande rivoluzione scientifica del ventesimo secolo oltre alla sua relatività e cioè la meccanica quantistica che è la teoria su cui si basa tutta la tecnologia recente in altre parole ci sono state nel ventesimo secolo due grandi rivoluzioni alla base della fisica fondamentale la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica ed entrambe sono state largamente aperte ispirate da Albert Einstein oggi dai transistor alla bomba atomica dai gps nelle automobili alla risonanza magnetica negli ospedali dalle cellule fotoelettriche che stanno su tutte le porte ai computer alla tecnologia dei semiconduttori dei computer che hanno cambiato la nostra vita in tutto questo c'è un pezzetto del pensiero di Einstein e una conseguenza utilizzata delle scoperte di Einstein le sue scoperte hanno un effetto diretto sulla vita di ciascuno di noi oggi ma soprattutto più che l'impatto tecnologico e applicativo di applicazione sulla nostra vita oggi noi pensiamo il mondo fisico in maniera profondamente diversa dal passato il mondo non è più come l'aveva immaginato Newton non è più un semplice spazio grigio con delle particelle grigie che si attirano e basta è molto più bello è iridescente multiforme lo spazio si incurva le particelle sono anche onde ci sono i buchi neri l'universo intero è nato da un big bang si espande il mondo che vediamo oggi intorno a noi è un mondo pieno di meraviglie iridescente di cui non abbiamo che iniziato a vedere la ricchezza e la bellezza strepitosa e il piccolo mago che ha cominciato ad aprirci questa porta è un giovane che era venuto in Italia scappando dalla Germania perché non sopportava il militarismo tedesco e che quando finalmente riuscì a uscire da quel ufficio brevetti e avere un posto all'università con grandissima difficoltà perché non faceva parte appunto di nessuna scuola non aveva padrini commentò il successo in una lettera a un amico scrivendo eccomi diventato un membro ufficiale della corporazione delle puttane nel 1914 Einstein è professore a Berlino quando inizia la prima guerra mondiale l'entusiasmo di più in Germania come altrove è alle stelle in Italia il grande dibattito è se fare la guerra insieme alla Germania e l'Austria contro la Francia e l'Inghilterra o viceversa fare la guerra insieme alla Francia e l'Inghilterra contro la Germania e l'Austria finalmente la guerra un gran numero di intellettuali tedeschi fra cui tutti i colleghi e gli amici di Einstein firmano un manifesto pubblico in cui si sostiene la giustezza della guerra Einstein in quel periodo viene descritto da un amico essere in uno stato di costante grave depressione per la tragedia infinita a cui dobbiamo assistere e lui stesso scrive in una lettera l'Europa nella sua follia si è cacciata in qualche cosa di incredibilmente assurdo Einstein prova a mobilitarsi come farà spesso nella vita e scrive un contromanifesto intitolato Appello agli europei in cui esorta a fermare questa follia di patriottismo e chiede cerca nel mondo intellettuale tedesco intorno a lui altri che firmino questo manifesto e in tutta l'università tedesca non trova che altre tre persone disposte a firmare il manifesto Einstein come sempre è solo a guardare il mondo con occhi diversi da tutti gli altri ci vorranno milioni di morti delle due guerre mondiali consecutive per convincere anche qualcun altro che forse non aveva tutti i torti sei esistono se se vorreggessi internazionale in la vittura della preferisci vivere in America sin se quando vi chiedi la posizione in cui ho messo la mia posizione in Germania, ho fatto questo statement. As long as I have any choice, I will only stay in a country where political liberty, toleration and equality of all citizens before the law is the rule. Political liberty implies liberty to express one's political opinion orally and in writing, and a tolerant respect for any and every individual opinion. That is real American doctrine. But tell me... Il 13 aprile del 1955 Einstein avvertì violenti dolori al torace e due giorni dopo fu ricoverato in ospedale. All'ospedale in un momento in cui stava un po' meglio chiese che gli portassero il suo taccuino perché voleva lavorare ancora un po'. Einstein non credeva nell'esistenza di un dio personale e non credeva che ci fosse una vita dopo la morte. Considerava questa una puerilità dovuta alle nostre paure. Per lui la morte era la fine, ma rifiutò qualunque intervento chirurgico dicendo «Voglio andarmene quando voglio io, è di cattivo gusto prolungare la vita artificialmente. Ho fatto la mia parte, è ora di andare». Aveva scritto in una lettera a sua sorella «Se tutti vivessero una vita come la mia, non ci sarebbe bisogno di romanzi». Sembra facile dirlo per chi ha vissuto una vita come la sua, ma lui questa cosa, questa frase, l'aveva scritta nel 1899 quando aveva vent'anni, cioè prima di vivere la sua vita. E forse questo è uno spiraglio sul suo mondo interiore. Era appassionato di vita e di pensiero. Niels Bohr, grande padre nobile della meccanica quantistica, con cui Einstein aveva dibattuto anche molto aspramente e a lungo, scrisse poi «Il genere umano sarà sempre debitore ad Albert Einstein per avere tolto degli ostacoli che le nozioni primitive di spazio e tempo assoluti frapponevano al nostro sguardo. Egli ci ha dato un'immagine del mondo dotata di un'unità e un'armonia che vanno oltre i sogni più arditi del passato». E lo stesso Bohr racconta che dopo la morte di Einstein continuava a discutere con il suo vecchio avversario e amico come se fosse sempre vivo. «Ancora oggi, scrive Bohr, vedo il suo viso che mi sorride, un sorriso del tutto particolare, sapiente, umano e amichevole. E non è solo a continuare a vedere quel viso e a parlare con lui». Il 18 aprile 1955 muore a Princeton Albert Einstein. Carlo Rovelli la racconta.